Vittoria. Un'aggressione violenta, cieca, quasi senza freni. Il video di Franco Assenza che pubblichiamo dice tutto, le immagini sono esplicite più di qualsiasi commento. Alla luce di tutto ciò che si vede c'è da chiedersi su quali elementi i dirigenti delle due squadre possano invocare l'annullamento dei provvedimenti emessi dal giudice sportivo e non facciano invece un esame di coscienza, punendo essi stessi i responsabili. Il comitato regionale Sicuro è intervenuto sui fatti di Vittoria Paternò con il suo presidente Santino Lopresti che ha rimarcato la gravità dell'episodio e la tolleranza zero che i massimi dirigenti regionali vogliono applicare alla violenza nei campi sportivi dove paradossalmente non sono tanto i tifosi a tracimare in atti inconsulti quanto i giocatori e i dirigenti. Succede dai campi della terza categoria all'eccellenza, il calcio siciliano si avvia nelle prossime settimane verso le fasi decisive per decidere retrocessioni e promozioni con la disputa di play-off e play-out come ne uscirà fuori. Vittoria Paternò sia un monito per tutti, un passo indietro prima che sia troppo tardi.